Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati nel nostro canale FitLine migliora la tua vita Allora questa sera cambiamo argomento, argomento cellulite, vi vado subito a presentare un altro prodotto che la PM International ha creato per combattere in modo efficace e immediato la cellulite eccolo qua, CC Cell Plus Capsule, quindi sono pillole da ingerire Dunque, già tante persone fanno uso di questo prodotto, facciamo questo video tutorial sperando che possa essere utile per le persone che non lo conoscono e hanno questo tipo di problema, cioè combattere la cellulite e che hanno usato magari tanti tanti prodotti ma non hanno ottenuto i risultati che speravano Allora vi vado, io ho sempre qui il mio fidato tablet accanto a me dove abbiamo raccolto le informative corrette da potervi dare Dunque, CC Cell Plus Capsule è un prodotto efficace perché favorisce la diminuzione della cellulite e livella la massa grassa grazie a questi tre ingredienti che vi vado a leggere La vitamina C, la L-carnitina, l'acido linoleco coniugato Allora vi vado passo passo a dire questi tre elementi a che cosa servono La L-carnitina, uno dei tre elementi, dicevamo, è un aminoacido è un bruciagrassi, quindi interviene sulla parte grassa vera e propria non solo, aiuta anche ad eliminare la cellulite ma può favorire anche la perdita del peso in eccesso Quindi, magari le persone che sono in questo periodo di regime alimentare hanno anche questo tipo di problema di strado di poso, di dover perdere peso quindi non solo vanno a combattere la cellulite, quindi un prodotto mirato ma aiuta anche nel processo di riduzione del peso Poi dicevamo che contiene l'acido linoleco coniugato Allora, l'acido linoleco coniugato è un acido grasso riduce il colesterolo, vado a leggere per non sbagliare favorisce la diminuzione dell'ormone che regola l'appetito quindi diciamo che, si sa, quando si è a regime alimentare si ha solo voglia di sgattare capita tante volte Questo tipo di acido che hanno inserito nelle compresse della CCC Plus aiuta a combattere la cellulite in modo efficace chi sta a dieta, magari anche questo tipo di problema quindi perdere peso, diminuzione dello strato di riposo prendendo le capsule questo tipo di acido tiene sotto controllo l'appetito e poi, ovviamente, noi diamo sempre le informative in modo pratico diciamo così per tutte le informazioni, approfondimenti del caso ci trovate anche su Facebook dove abbiamo un gruppo Fitland ovviamente migliora la vita dove trovate tutto in modo dettagliato ovviamente potete farci tutte le domande del caso lasciando sotto commenti, domande dove noi saremo sempre felici e lieti di potervi rispondere inoltre abbiamo la vitamina C la vitamina C, che penso insomma la conosciamo un po' tutti aiuta a rendere la pelle più elastica e più morbida quindi riduci l'ossadadiposo mantieni sotto controllo l'appetito se stai a dieta la vitamina C ti aiuta a mantenere la tua pelle elastica e più morbida quindi io mi invito solo a provare cioè nel senso che ha questo tipo di problema di cellulite che combatte da tanti anni magari non è riuscita a trovare il prodotto mirato che in effetti dà risultati veri e reali io mi invito come sempre a provare a provare e a provare sempre nell'info box noi vi lasciamo tutte le informative del caso i nostri link Facebook Instagram ci potete trovare anche su Instagram sempre Fitland migliora la tua vita ci potete scrivere in qualunque momento domande, curiosità e quant'altro vi aspettiamo buona serata grazie grazie a tutti